Ciao ragazzi per non in questo nuovo canale Oggi ragazzi siamo qui Perché facciamo l'assunto Del nuovo roster di Raw Visto che a me sono un amante di Raw Mi faccio un botto Raw Tutti i nuovi Tutto il nuovo roster Raw ragazzi si rinforzano moltissimo Per quanto mi riguarda diventerò molto più forte Perché diventerò fortissimo E' diventato Rose Che ecco Arturo Rosas Che comunque è uno molto Che non si è mai visto però potrebbe fare bene Tedrosine è rimasto Asuka è rimasta Randy Orton è rimasto molto forte Drew McIntyre è rimasto Every Little New Day al posto di Street Profits Che sono nella SmackDown I Vang Raiders sono rimasti Dabba Keto è rimasto La Retribution c'è Tedrosine Già l'ho detto Ertut rimane campione 24-7 Championship Drew Gulak è rimasto Tosawa è rimasto De Fimbre Wyatt è venuto Alexa Bliss Lesi Evans Leanne è rimasta Insieme a Natalia Red Squad As SmackDown Sean E' rimasto a Raw Sean E' rimasto a Raw Ruud e Ziggler a SmackDown a Raw tra l'altro Lana ha vinto la Battle Royale andrà contro Asuka ragazzi andrà contro Asuka andrà per il titolo di campionessa di Raw femminile poi ci sta la retribution la All Business è rimasta Raw Ted Rollins a SmackDown Dominic Mysterio a SmackDown Steve Profits e SmackDown New Day a Raw importante questo tag team ma anche cambiato Lars Sullivan a SmackDown Matt Riddle a Raw Jeff Hardy a Raw Pearl Strowman a Raw quindi ragazzi veramente Raw è diventata veramente una serie cinesca sono molto contento ragazzi perché The Film Rewiat a Raw farà veramente un bel bordello farà niente ragazzi questo qui erano tutti i draft di Raw volete quello di SmackDown non lo farò oggi perché oggi ho fatto già due video ho messo anche un post Instagram per voi è meglio Raw o SmackDown andate a darci un'occhiata noi ci becchiamo nel prossimo video bella ragazzi ciao raga ciao raga ciao raga ciao raga